أنا بالأحرى لا preferiregli no أنا هادئ sono accomodante sono accomodante أنا أتوقع sto aspettando sto aspettando أنا لست غبي io non sono stupido io non sono stupido أنت وعدت hai promesso hai promesso إنه فعال è efficiente è efficiente إشراحلي spiegamelo spiegamelo هل لديك حما hai la febbre hai la febbre هل قلت شيئا hai detto qualcosa hai detto qualcosa أنا أخشى ذلك temo di sì temo di sì somk peixe peixe أدرس بي جد studiati sado studiati sado أنه ينزف sta sanguinando sta sanguinando خذ هذه الحبة prendi questa pillola prendi questa pillola اقترح نزه أسجري توم بيكنيك أسجري توم بيكنيك هل يجب أن أنتظر أحشم توم بيكون أود تبaktو لذلك أود تبادلي هذة أود تبادلي هاذا أود تبادلي هذة أود تبادلي هذة أود تبادلي هذة È una lunga storia. Ci vediamo domani. Chi sta dando il via? Chi sta dando il via? Chi sta dando il via? Partire. 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 Con d'ai-fi. Essere mio ospite. Essere mio ospite. Essere mio ospite. La tattrock. Non lasciarti andare. Non lasciarti andare. Devo andare. Devo andare. Dauna tachakak. Controlliamo. Controlliamo. Asci'urubi dawar. Mi gira la testa. Mi gira la testa. Uhaawilu thalik. Sto provandola. Sto provandola. Sto provandola. Innahu mu'akkad. È complesso. È complesso. È complesso. Una vitemmona. È complesso oggetto? Sono bene? Tipo che slippers. Sono bene? Mi sento bene? Mi sento bene? Regno. Inna hul haddi. È il limite. È il limite. Hanno tu ridi al mazì? Vuoi di più? Vuoi di più? Raja'a wassal. Per favore prosegui. Per favore prosegui. Ana la tatta bea. Non sto seguendo. Non sto seguendo. Annaha mu'akkada. È complicato. È complicato. Con faghwara. Tieni il mento alto. Tieni il mento alto. L'anatahaddathu an'h. Parliamone. Ma è l'isab? Qual è la risposta? Qual è la risposta? Qualcosa da bere. Qualcosa da bere. Stai ascoltando? Stai ascoltando? Famine. Ottavo. Ottavo. Junio. Giugno. 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 BAB PORTA PORTA ALWARAK CARTA CARTA ALBAOUD TANZARA TANZARA LA TUNZA'AJI NON SI ARRABI NON SI ARRABI HELL YUMKINUN IL MUHAWALA POSSO PROVARE POSSO PROVARE EYHAMU TE FODDAL QUALE PREFERIRESTI QUALE PREFERIRESTI HÀVÀ ANA SONRIO 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 ANNAHU LAYSA FIY NON E DINTRO NON E DINTRO NON E DINTRO DILLO DI NUOVO SHUKRAN GASILAN MOLTE GRAZIE MOLTE GRAZIE TABDU HAZINAN TI VEDO TRISTE TI VEDO TRISTE TI VEDO TRISTE TI VEDO TRISTE LKINNI AUHIBBO MA LUI MI PIACE MA LUI MI PIACE ENTÀ الرئيس ENTÀ الرئيس SEI LCAPO SEI LCAPO SEI LCAPO FIY WAKTIN AKHAR UN'ALTRA VOLTA UN'ALTRA VOLTA TOKYO MESDAHMA TOKYO E' AFFOLATA TOKYO E' AFFOLATA TOKYO E' AFFOLATA TOKYO E' AFFOLATA SAUFAKYRU FI LAMR CI PENSERÀ CI PENSERÀ CI PENSERÀ ANA MARIID MENH SONO STUFO SONO STUFO SONO STUFO EI ATFAL CI SONO BAMBINI? CI SONO BAMBINI? CI SONO BAMBINI? EI NA SHARE IL RAÍSI DOVÈ MAIN STREET? DOVÈ MAIN STREET? DOVÈ MAIN STREET? SE ACHIZHAZA AYDA PRENDERÒ ANCHE QUELLO PRENDERÒ ANCHE QUELLO PRENDERÒ ANCHE QUELLO PRENDERÒ ANCHE QUELLO VOLRESTI DEL VINO? VORRESTI DEL VINO? VORRESTI DEL VINO? FI SAĐA SAB'A LILA ALE SETTE DI SERA ALE SETTE DI SERA AYNA CONT? DOVÈERI? 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 INNAHA KHABIERA LEI E' UN'ESPERTA LEI E' UN'ESPERTA LEI E' UN'ESPERTA ANNAHU FI OMORI LUI E' LA MIA ETA 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 ALHAMDU LILLAH GRAZIE DIO GRAZIE DIO GRAZIE DIO CAIFA BELBUT QUANTO LENTAMENTE? QUANTO LENTAMENTE? QUANTO LENTAMENTE? ANA MAKTOOB SONO FIDANZATA SONO FIDANZATA ANTA SAHIBU IL QUARAR TU DECIDI TU DECIDI ATLAQUAN ASSOLUTAMENTE ASSOLUTAMENTE WALAKINNAHA ALHAQIQA MA E' VERO MA E' VERO Mi sento stanco Mi sento stanco Io guardo solo Mi sto arrendendo Mi sto arrendendo 4 luglio 4 luglio Da'na natafahum Truciamoci Truciamoci Leisa tamaman Non esattamente Non esattamente Laqad nussit Ho appena dimenticato Ho appena dimenticato Esposato 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 Al settejun Non sei john Non sei john Hatta disamber Fino a dicembre Fino a dicembre Limazza Anta Huna Perchè sei qui Perchè sei qui Ai shail Qualsiasi cosa per te Qualsiasi cosa per te Inna hu Mautomoth È un motomoth È un motomoth È un motomoth È un motomoth Ecco per il nuovo anno Ecco per il nuovo anno Ecco per il nuovo anno Fragile Mada yafalu Lel amal Cosa fa per lavoro Cosa fa per lavoro Mada turidu anna tafal Che cosa vuoi fare Che cosa vuoi fare Quale è più economico Quale è più economico È troppo È troppo È troppo Il tempo è denaro Il tempo è denaro La a'atakidu zailik Penso di no Penso di no Penso di no Anna madiana lak Ti devo un favore 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 Ya lahu min' alaj Che meraviglia Che meraviglia Che meraviglia Lei se ladeia wakt Non ho tempo Non ho tempo Non ho tempo Sto ascoltando. C'è una possibilità. Ma è il punto? Qual è il punto? C'è una possibilità. Quando apriete? Raiya Kābūsa. Ho avuto un incubo. Ho avuto un incubo. Questo è un ricatto. Questo è un ricatto. Ma è il muscilla? Qual è il problema? Qual è il problema? Mata è il problema? Quanto tempo si apre? Quanto tempo si apre? È già buio. È già buio. Quattordici Quattordici Uspach Nuotare Nuotare Annhū Dababī C'è Nebė C'è Nebė C'è Nebė C'è Nebė C'è Nebė Inna hū bishanil wakħ. Era ora Era ora. Ho perso l'orologio. Sono una taglia 9. Non posso proprio. Divieto di transito. Fragmente. Fragmente.